Fiat Uno e con questo si ha la possibilità di mettersi un po' in mostra se si hanno delle qualità e delle doti chiaramente questo direi è l'unico consiglio che puoi dare anche perché è già diciamo anche in questo caso è già uno sport molto costoso perché insomma è sempre e pur sempre una vettura che costa dei milioni ci vogliono delle gomme, ci vuole della benzina, ci vuole insomma del tempo Ci fa un segno che dobbiamo proprio chiudere, il tempo è decisamente scaduto io ringrazio tantissimo Dario Cerrato che è venuto a trovarci nei nostri studi oggi e ne approfitto anche per fargli tantissimi auguri per la prossima stagione per l'88 Grazie, sono io Ti vedremo impegnato di nuovo nel campionato italiano? Sì, sarò impegnato nel campionato italiano e sempre con la lancia delta con un nuovo modello che sta uscendo con la integrale quindi una macchina più veloce, più bella anche esteticamente direi e con questa macchina cercherò di conquistare il mio secondo titolo italiano come ho fatto con il titolo europeo Benissimo, grazie ancora a Dario Cerrato e a tutti coloro che ci hanno seguito da casa appuntamento nuovamente con Conosciuto la settimana prossima a tutti buona serata Grazie! 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 Grazie!